Buonasera a tutti, ciao a tutti. Allora, chi mi ha seguito e soprattutto chi mi segue sa di che cosa voglio parlarvi oggi, di una grande partita, di una grande vittoria. Parliamo appunto della partita di ieri sera a San Siro-Milan contro Juventus, che il Milan ha battuto la Juve 4 a 2. E noi tifosi del Milan possiamo veramente gridarlo, perché comunque è stata una partita veramente incredibile. La Juventus aveva in mano comunque la partita, quindi diciamo che il Milan si è dimostrato molto grintoso e ha dimostrato di avere un'enorme carica, mentre una Juventus che si è dimostrata un po' piccolina sotto questo aspetto, perché come dicevo prima, la Juventus aveva in mano la partita andando in vantaggio con due gol e poi nel giro di 20 minuti si è sciolta e il Milan ha recuperato con ben 4 gol di fila. Quindi insomma, diciamo che noi magari non ce l'aspettavamo e quindi la Juventus ha lasciato il discorso scudetto ancora aperto ed è stata soprattutto una grandissima serata anche per Pioli, che per la prima volta si ritrova vittorioso contro la Juventus da quando è iniziata la Serie A, che la Juventus è rimasta ferma in classifica. Io da grande tifosa milanista vi auguro una buonissima serata e ci vediamo nelle prossime stories e vi mando un bacio. Ciao, da Martina Zairo.